ciao followers buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro you gufo cari amici purtroppo ho la tosse ho un terribile dolore qui alla gola e quindi purtroppo non riesco a parlare bene nel video spero di riuscire a fare questa registrazione questo video senza comunque dover chiedere scusa per i continui colpi di tosse oggi abbiamo tante notizie di cui parlare cari amici cari followers attenzione perché il nostro commisso ci chiede adesso uno sconto per comprare il padre tempo artur uno dei migliori centrocampisti dell'universo quello che verticalizza potente e che alla juve non capiscono una ceppa non capiscono una mazza perché questo qua praticamente è il centrocampista altro che c'ha la no blue che dice che il numero uno ragazzi il numero uno in assoluto è proprio artur melo e la juve lo sta cedendo stupidamente ragazzi perché loro di calcio non ne capiscono nulla lo sapete lo ha detto l'ileadani quindi ragazzi noi alziamo le mani ed è come dice l'ileadani perché lui è un espertone proveniente dalla san martinese con le scarpe di tela lui che comunque è bravo e ci viene a dire che è uno dei migliori centrocampisti del mondo è commisso lo vuole riscattare e ci chiede lo sconto allora cari followers ecco vedete scusa cari followers io voglio capire questa cosa qua come funziona io prima vado in televisione vado a gridare ai giornali alla rosa dei 4 20 vado a dire che la juve è quella squadra che comunque questi qui ci hanno i debiti ci hanno i debiti noi abbiamo il bilancio a posto scusa se hai il bilancio a posto e ti lamenti che gli altri non hanno i soldi allora non chiedere lo sconto che stai facendo l'elemosina c'è un calciatore che comunque è bravo lo dice l'ileadani compralo pagalo e non rompere i maroni perché devi chiedere lo sconto adesso lui chiede lo sconto ragazzi altra notizia comunque lasciando da parte il ridicolo commisso l'inter ha patteggiato o meglio i tesserati della sf inter di milano hanno patteggiato ha patteggiato comunque simone inzaghi una multa di 5000 euro per aver telefonato nello spogliatoio quando era squalificato e ha patteggiato anche a cerbi hanno fatto tutto in uno no un package hanno comprato il pacchetto patteggiamus e quindi hanno patteggiato 3000 euro di multa ad a cerbi per aver fatto il dito medio verso i tifosi ragazzi di a cerbi ne avevamo parlato alla fine a me dispiace perché capisco che gli devi dare il cartellino rosso non è anorato quindi adesso lui deferito multato quello che vogliamo però ragazzi a cerbi comunque è stato comunque ingiustamente preso in giro mentre simone inzaghi purtroppo lì è colpa del tonno di bastoni perché bastoni come un tonno va in televisione dice si ci ha telefonato il mister e quindi giustamente fa il ruffiano e la squadra viene comunque multata però ragazzi 3500 euro 5000 euro è come se a me mi chiedi 30 centesimi siamo alla fine allo stesso livello da ogni modo ragazzi questa è la figgc grande peppino chine che muove una piccola pacca sulla spalla all'inter grande peppino chine ha fatto comunque il suo lavoro ragazzi attenzione perché vorrei parlare con voi del mondiale per club mondiale per club che alla fine non si conoscono le regole non si conoscono le regole perché alla fine sappiamo che la juventus a 47 e il napoli a 42 mi sembra no o la juva 45 napoli a 40 non mi ricordo ragazzi comunque ci sono 5 punti di differenza e quindi adesso il napoli deve fare comunque 5 punti e quindi non abbiamo capito bene come funziona se un pareggio vale un punto la vittoria valgono due punti e poi comunque il passaggio del turno vale un altro turno quello che io vorrei capire che tutti vorrebbero capire ma come funziona se una squadra pareggia e poi vince ai supplementari gli si assegnano dei punti oppure comunque vale il pareggio per entrambe le squadre un punto e poi tu comunque le assegni a quella squadra il punteggio del passaggio del turno e giustamente la fifa la uefa questa cosa non lo sa non lo sanno non lo possono dire o non lo vogliono dire perché giustamente ragazzi quando finisce la stagione vediamo un po di aiutare qualche club amico o di bastonare qualche club nemico facciamo un esempio a caso di un club nemico della uefa la juventus per esempio quindi giustamente loro stanno aspettando vediamo dice a fine stagione non diciamo che la regola non diciamo che abbiamo deciso poi a fine stagione vediamo un po se c'è qualche squadra che ha pareggiato magari mettiamo la regola che il punto vale o che il punto non vale sai aum aum entra in cosa nostra ci organizziamo giustamente non dicono come funzionano le regole cari followers Andrea Ramazzotti questo giornalaio che andrebbe radiato dall'ordine dei giornalisti lui andrebbe radiato perché l'altro giorno ha detto una notizia dicendo che la juve impedisce ai bambini di partecipare ai tornei delle giovanili bla 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 e alla fine erano delle barciggiate anche la RAI radio antenne italiane o radio antenne interiste comunque che non è molto amichevole nei confronti della juventus anche loro addirittura si sono dissociati da questo articolaio da questo articolino che ha fatto il nostro Andrea Ramazzotti e quindi hanno smentito la cosa hanno detto che non è vera questa cosa si è dimostrata non vera quindi Andrea Ramazzotti dovrebbe essere radiato perché lui secondo l'albo dell'ordine dei giornalisti dovrebbe fare comunque un articolo dove lui chiede scusa per aver sbagliato giustamente lui non lo fa e quindi andrebbe radiato ma che cosa fa il nostro Andrea Ramazzotti giustamente per cavalcare l'onda perché lui vuole superare in classifica il cervo di Mirandela e Pistocchi vuole essere proprio tra i più odiati della tifoseria juventina quindi lui vuole balsare al comando e si inventa di tutto e questa volta fa questo articolino parla lui della Superlega e ci dice che è un flop comunque ragazzi ve lo voglio far leggere lui dice che praticamente altri no che flop il tour di Raychard quello della Superlega il progetto non trova nessuno c'è la foto di Raychard e lui ci spiega in questo articolino è un articolino perché comunque lui andrebbe radiato dall'albo dell'ordine dei giornalisti perché lui scrive Pandonie ha scritto delle cose che non sono vere quindi andrebbe radiato lo ripetiamo allora lui ci dice che c'è un flop lui è andato a sedere insieme a Aurelio De Piangentes alla fine si sono seduti insieme però come vedete non ci sono adesioni e poi sotto lui scrive c'è una montagna da scalare e guardate qui che cosa scrive in più c'è stata la presa di posizione del numero uno della FGC Gabriele Gravina esiste una norma federale per la quale chi aderisce alla Superlega esce dal sistema federale tradotto non partecipa alla Serie A con queste condizioni di partenza in Italia le chance che la nuova competizione trovi seguanti sono ridotte all'Ubicino a parte il fatto che c'è la fake news che loro dicevano dove praticamente la Juventus non è mai uscita dalla Superlega quindi già iniziamo a dire che tutti sono fuori la Ju non è fuori non è uscita numero uno numero due non sono uscite neanche le altre numero tre questa storia che tu dici che loro non parteciperebbero alla Serie A è una norma federale ma è una norma illegale non si può fare tu non puoi punire o impedire ai club fare resistenza ai club che vogliono partecipare alla Superlega perché lo ha detto il tribunale di Bruxelles c'è una sentenza lui Gravina non può inventarsi questa cosa quindi è inutile che tu fai questo articolino mio caro il giornalaio dove scrivi che tradotto non partecipa alla Serie A non si può fare è una cosa anticostituzionale contro la legge contro la sentenza del tribunale europeo non si può fare però ragazzi che succede il cervo di Mirandela giustamente come sempre voi sapete prende la palla al balzo però questa volta ci sorprende attenzione perché il cervo sorprende tutti spiazza tutti e attenzione il cervo è dalla nostra parte cari followers ve lo voglio far vedere dice è ufficiale la Juventus che ha reso noto di non essere affatto uscita dal progetto Superlega non parteciperà al prossimo campionato di Serie A dal quale verrà esclusa come da disposizioni del presidente Gravina e poi lui solto vedete dice bravo Gravina aspettiamo il comunicato federale che ratifichi l'esclusione della Juventus lei ha una sola parola vero? quindi lui adesso sfida Gravina e dice ah vedi allora adesso devi escludere la Juventus perché tu hai detto che escludevi la Juventus ma questa cosa è illegale non si può fare c'è una sentenza del tribunale che dice chiaramente che se un club vuole partecipare alla Superlega tu non puoi fare ostruzionismo c'è questa norma proprio c'è questa regola non si può fare e giustamente il cervo di Mirantila adesso sfida Gravina e dice bravo Gravina quindi alla fine adesso il problema è secondo lui no? perché poi lui dovrebbe uscire e dire ah vedete ragazzi Gravina è a favore della Juventus Gravina giustamente deve tutelare il brand che tra l'altro è nei primi 100 del mondo nei primi 100 brand sportivi del mondo i vostri brand non si vedono da nessuna parte però ragazzi è la passione e c'è l'urlo Champions ragazzi quindi il brand alla fine non importa ad ogni modo ragazzi vi devo dire una cosa prima di chiudere parliamo un attimo della formazione noi non sappiamo che tipo di formazione vuole schierare Allegri tra qualche ora ci giochiamo comunque i tre punti contro al Real Madrid Frosinone quindi ragazzi mi raccomando vi voglio tutti frullato di vitamina come sempre per cercare di supportare la nostra squadra speriamo di prendere i tre punti non sappiamo che formazione metterà Allegri in campo non si sa sicuramente non ci sarà il 3-4-3 o il 3 o il 4-3-3 che tanto era stato sannato da quei posti io ve l'avevo detto che era una stupidaggine che avevano scritto tutti lì a lamentarsi quando si sa che Allegri non cambia modulo e era semplicemente un piccolo allenamento però ragazzi una cosa è certa noi siamo in pericolo perché ci dicono lì da sotto al vestigio ragazzi escono delle notizie di calciomercato proprio ragazzi delle notizie proprio brutte ma brutte ma brutte attenzione purtroppo noi abbiamo venduto già Sule abbiamo venduto Yusen che rimane alla Roma abbiamo venduto Barencea abbiamo venduto il di tutti i fuori ragazzi questa volta tocca a Chiesa però attenzione perché noi lasciamo Chiesa e prendiamo Raspaduri c'è questo cambio che si sprospetta da Napoli siccome comunque le due società sono in buonissimi rapporti voi sapete che Aurelio De Piangentis lui così proprio di buona volontà proprio di sua buona spontaneità lui ha bisogno proprio di sentirsi di sentire questo amore verso la Juventus quindi lui sicuramente sarà d'accordo a fare un'operazione di mercato con la Juventus quindi lì da sotto al vestigio ci dicono che attenzione c'è lo scambio Chiesa-Raspaduri io aggiungo questa è una cosa mia scusate è un'opinione mia però ragazzi io vi dico secondo me vi dovremo dare almeno 30-40 milioni di euro di conguaglio perché stiamo parlando di Chiesa ma dall'altra parte loro ci danno Raspaduri non so ragazzi se mi Raspaduri bene con voi ma Raspaduri eh non è che uno qualsiasi quindi cari followers occhio perché questo scambio sicuramente si farà ad ogni modo cari followers mi raccomando ti fate Juventus mancano poche ore contro il Frosinumene vediamo di vedere in campo Alcarazza almeno lo speriamo scusate ancora una volta per questa tosse che è molto forte noi ci vediamo nella nostra prossima seduta ricordatevi il momento tenerezza iscrizione e commenti noi ci vediamo nel nostro video di domani chi non si iscriva al canale è un cervo di Mirandela mmm yeah